Sfascia auto in sosta con un bastone e minaccia i carabinieri con uno spray. È accaduto ieri sera tra i comuni di Vietri sul mare e Cetara. Ad intervenire sul posto, i carabinieri del nucleo radiomobile, a seguito di una segnalazione al 112 relativa ad un soggetto che in sella ad un ciclomotore ed armato di un bastone in legno stava danneggiando delle auto a Vietri. L'uomo, raggiunto dalla pattuglia, ha lanciato il bastone fuoristrada e si è dato alla fuga verso Cetara in una folle corsa. Bloccato dopo un chilometro, l'uomo, mascherato con un passamontagna, ha iniziato a minacciare di morte i militari, offendendoli con vari epiteti, per poi passare a minacciare di morte anche i sindaci di Vietri e Cetara, rei, di non aver rielargito sussidi economici. Dopo aver ulteriormente minacciato i militari con una bomboletta spray ed aver sferrato un paio di calci alla gamba di uno di loro, è stato definitivamente bloccato ed arrestato. F.A. Le sue iniziali, 49 anni di Vietri sul mare, che non è nuovo a simili intemperanze, è stato pertanto condotto alla casa circondariale di Forni.